ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a mangiare una carbonara di zucca so che è un azzardo chiamare così questo piatto perché naturalmente la carbonara è la carbonara assolutamente d'accordo però non sapevo come farvi venire l'acquolina leggendo il titolo ho cotto la zucca in forno poi l'ho saltata con un filo di grasso del guanciale un po di acqua per renderla cremosa e per darle questo colore più tendente al giallognolo al mandarino ho aggiunto della ricotta light quindi è un piatto completo rispetto alla carbonara perché per esempio quella che faccio io ha solo i tuorli pasta e tuorli vuol dire carboidrato e grasso guanciale sì minima parte proteica se utilizzate del guanciale come quello che uso io quindi che ha una parte di carne altrimenti la maggior parte anche lì è solo grasso perciò poi ci va a mancare tutta la parte di fibre proteine invece in questo piatto abbiamo la ricotta light che ci dà la parte proteica e la zucca che ci fa da verdura anche se è tendente più verso i carbo ma comunque la classifichiamo come verdura vi mostro subito il piatto poi vi dico che vino ci ho abbinato è un vermentino di gallura ha delle note minerali sapide so che penserete che il guanciale conferisce molta sapidità al piatto intanto direi di scomporlo e di iniziare a mangiare però in realtà questo è il guanciale di renzini al brandy questo vuol dire che è poco sapido e mantiene sempre una tendenza dolce data dal brandy la zucca è a tendenza dolce la ricotta anche quindi ho pensato che con un piatto tendenzialmente dolce ci potesse star bene un vino sapido naturalmente come ogni mukbang d'ora in poi abbiamo il brindisi alla nostra andiamo subito ad assaggiare questa pasta perché ho una fame pazzesca anche oggi sono le 3.05 molto bene che bontà zucca e guanciale stanno benissimo insieme il retro gusto del brandy ci sta bene l'avrei utilizzato più per fare una gricia però anche con la zucca al suo perché sicuramente se andate ad utilizzare un guanciale classico il piatto risulterà più equilibrato personalmente amo il guanciale quando ha ancora una parte di carne visibile troppo grasso mi stufa la parte della carne ha un sapore completamente diverso da quello del grasso quindi aiuta anche ad alternare i sapori in bocca possiamo dire ufficialmente che questo è il mio ultimo pasto con molte fibre perché tra pochi giorni mi opero e devo limitare l'assunzione di fibre io che sono amante della verdura obbligata a non mangiare tanta verdura ieri sono andata a fare la pre ospedalizzazione ed ero come al solito un po' titubante perché quando vado in un posto che non conosco a fare il prelievo ho sempre un po' di paura perché molto spesso le mie vene spariscono al momento del prelievo quando arriviamo al reparto solventi incontriamo due infermieri un uomo e una donna non giovanissimi la cosa un po' mi rincuora perché penso hanno esperienza andrà bene mi fanno sdraiare sul lettino l'incaricato ad effettuare il prelievo era l'uomo mi mette il laccio emostatico sul braccio destro e inizia a toccarmi per sentire la vena ovviamente non la trova e percepisco in lui una sorta di ansia che iniziava a crescere quindi chiama l'altra infermiera e dice ma io non sento le vene nel mentre il braccio mi si stava bloccando perché la storia è andata avanti 5-6 minuti voi immaginate con il laccio emostatico iniziavo a sentire la mobilità della mano leggermente limitata fortuna poi che non ha provato a bucarmi ma ha chiamato l'altra infermiera che prontamente ha chiesto hai provato sull'altro braccio no alla fine mi ha effettuato lei il prelievo al primo colpo ha trovato la vena e soprattutto non mi è uscito l'ematoma quindi sono stata felicissima secondo aneddoto arriviamo nel reparto in cui dovevo effettuare l'rx toracica lungo il corridoio c'era un signore sulla sedia a rotelle che faceva avanti e indietro piano era di spalle rispetto a noi e si sentiva io guardo christian e inizio ad inquietarmi dico ma dove ci troviamo in un film horror anche perché tempo dietro avevo giocato ad outlast e c'era proprio la scena di un tipo sulla sedia a rotelle che all'improvviso si girava facendoti saltare dalla sedia quindi avendo ancora in memoria quel trauma mi sono subito un po' inquietata mi fanno entrare da una porticina larga così che non avevo letto essere lo spogliatoio il dottore mi dice prego si tolga il reggiseno si rimetta la maglietta e poi venga a fare la lastra voi immaginate io che cerco di togliermi il tutto in una stanza veramente larga così ho iniziato a dare botte a destra e a sinistra se mi lamenterò di avere dei lividi sui gomiti, sulle spalle ricordatemi di questo episodio faccio l'RX toracica tutto a posto bene si può rivestire ho rinunciato a rimettermi il reggiseno perché non volevo ripetere quello che era accaduto in precedenza torniamo al piano di sopra a quel punto aspetto per andare a fare l'elettrocardiogramma non so cosa sia successo perché ho sentito qui e lì parlare del cardiologo che mancava probabilmente non c'era nessuno quel giorno ed hanno dovuto chiamare il dottore che aveva dato reperibilità arriva finalmente il momento di andare a fare le cg ci fanno accomodare in un'altra saletta a parte accanto al bagno con la porta aperta non vi dico la puzza eviterei di pensarci visto che sto mangiando alla nostra sinistra c'era una porta scorrevole che ti portava alle stanze in cui venivi visitato un signore decide di arrivare di mettersi lì in piedi aprendo la porta rimanendo sotto lo stipite e la porta ha iniziato a sbattergli addosso e lui in perterrito rimaneva lì fermo a cercare non so cosa io in tutto ciò sempre più basita arriva il nostro turno l'infermiera mi inizia ad attaccare le pompette per effettuare l'elettrocardiogramma me le attacca tutte inizia a chiedere i miei dati sensibili da inserire nella macchina dico tutto ad un certo punto mi chiede di ripetere il codice fiscale non mi sembrava di averlo sbagliato comunque lo ripeto alla fine mi richiede tutti i dati sensibili non so che problema abbia avuto ma sicuramente un problema c'è stato risolto questo problema se ne presenta un altro la macchina non funzionava un elettrodo non so se sia corretto chiamarlo in questo modo non risultava ben attaccato quindi attacca stacca riprova provo ad alzare un po' di più il reggiseno alla fine l'ho dovuto sollevare completamente lei aveva iniziato ad agitarsi sempre di più ad un certo punto mi si avvicina non riuscirò mai a trasmettervi quello che ho visto stavo per scoppiare a ridere forse ho anche iniziato a ridere e poi mi son fermata si avvicina fissandomi negli occhi dicendomi chiudi gli occhi rilassati ma l'ha detto non in modo carino in modo inquietante poi con gli occhi tipo sgranati non lo so al che ho pensato ci sarà qualche problema risulto agitata non capivo dentro di me non vi dico stavo ridendo a crepa pelle finisce l'elettrocardiogramma e mi chiede ma ti hanno misurato la pressione prima? io sì e com'era? buona mi avevano detto così mi risponde tipo? eh non me lo ricordo nessuno mi ha detto che dovevo venire qui a riportare i dati della mia pressione me li hanno detti ho chiesto semplicemente se i valori fossero nella norma e basta non è che mi vado a ricordare la minima e la massima a quel punto non ho potuto fare a meno di chiedere ma c'è qualche problema? prima mi si avvicina in quel modo dicendomi di rilassarmi poi mi chiede della pressione insiste andando a fondo alla fine mi risponde no no sono domande di routine capisco le domande di routine però poniamole con un altro tono insomma sembrerà che mi sia lamentata tutto il tempo in realtà Christian era lì con me sono successe tutte cose non rilevanti però che in quel momento risultavano surreali i modi di fare le situazioni sapete quando si crea quell'atmosfera un po' stranina che voi dite boh è una candid camera adesso non ci resta altro che aspettare il giorno dell'operazione per registrarvi il vlog non vedo l'ora anche perché mangeremo lì pranzo spuntino cena e non so se la colazione del giorno dopo quindi oltre ad avere il vlog della giornata avrete anche un cosa mangio in 24 ore all'ospedale porteranno da mangiare sia per me che per Christian io avrò un tipo di alimentazione Christian un'altra quindi vi potrò dire dalla A alla Z cosa si mangia in ospedale e soprattutto il gusto quello ci interessa tant'è che io avevo chiesto scusate ma mi posso portare da casa il cibo erano tutti un po' spiazzati mi hanno risposto no ma non ti preoccupare serviamo tutto noi sì sì era proprio quello che mi faceva preoccupare da una parte mi dispiace avrei preferito portarmi qualcosa da casa dall'altra non so se ci sarà un tipo di alimentazione specifica nel posto operatorio quindi sarà un modo per divertirci insieme anche se già immagino non aggiungo altro ho già scritto a Paolo gli ho comunicato che subito dopo l'intervento tornerò da lui quindi aspettatevi anche il vlog dal nutrizionista come ai vecchi tempi per questo video è tutto io spero vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video che usciranno come sempre vi mando un bacione noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie per la visione!